Sono Rutino e Pregnano-Cilento i primi comuni a scendere in campo in soccorso della bretella che dovrebbe nascere tra Agropoli ed Eboli. Dopo i no della Valle del Sele, il territorio cilentano dice la sua e lo fa a favore del progetto voluto da Franco Alfieri. I due centri hanno deliberato in giunta il loro appoggio incondizionato, argomentando la scelta. La giunta comunale, si legge, delibera di esprimere un convinto sì dell'amministrazione nel sostenere e supportare la realizzazione dell'asse viario Agropoli-Eboli, in quanto rappresenta un'infrastruttura non solo necessaria, ma essenziale per garantire una mobilità fluida ed efficace ad un'area vasta della provincia di Salerno, che vanta ben due patrimoni unesco, il secondo parco nazionale per estensione in Italia ed una costa blasonata con maniere blu. Oltre 80 comuni, continua la delibera, ne beneficeranno, vedendo diminuire drasticamente i tempi utili per raggiungere luoghi di lavoro, uffici centrali, strutture sanitarie ed ospedaliere. Inoltre viene evidenziato anche un altro di importante aspetto. La realizzazione dell'infrastruttura produrrebbe una notevole diminuzione dell'incidentalità e un risparmio di tempo per gli utenti. Dopo Rutino e Prignano, adesso si attendono le delibere degli altri sindaci cilentani. Nel frattempo, da Albanella, arriva un'altra richiesta. Abbiamo chiesto la convocazione di un consiglio comunale monotematico ed urgente, dice il consigliere di Uniti per cambiare Aldo Guarracino, per approfondire le diverse scelte progettuali proposte, per verificare sul posto quali sono le trasformazioni importanti che genera e per proporre, preferibilmente all'unanimità, il progetto che meglio si adatta alle esigenze del nostro territorio e della nostra comunità.